ciao bentornato allora un video ancora sul giro armonico giro armonico di la maggiore allora per chi comincia può esercitare un po il cambio degli accordi con i giri armonici allora il giro armonico di la maggiore la maggiore fa di di s minore si minore e mi settima pennate da un quarto tutte in giù una misura per ogni accordo una misura da quattro quarti 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 finisce col primo accordo di là ti lascio la ditteggiatura degli accordi nella vita scalia sotto il video grazie per la visione